Musica Verso la Santa Pasqua 2019 tornano su onda di voi i tradizionali aguri del Vescovo di Summona Valva Michele Fusco. Eccellenza buonasera e innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per questa opportunità di poter rivolgere a tutti l'augurio per la Santa Pasqua. Allora la Quaresima che è il tempo liturgico che presiede la Pasqua è sempre all'insegna della solidarietà e della prossimità. Non a caso oggi siamo nella Casa Zaccheo questa opera segno diocesana proprio per chi si trova in difficoltà e non solo. Diciamo è stato un segno concreto anche da parte della Chiesa in termini di carità, è vero? Ormai sono già vari mesi che è iniziata quest'opera Zaccheo. E i nostri servizi che abbiamo resi operativi ormai vanno avanti con molta speditezza, si va avanti con tanta... Ecco sempre più ci si organizza per il meglio per servire i più bisognosi. Ecco è un tempo questo della Pasqua che ha coincide, ha coinciso con i dieci anni del post-sisma. Lei ha fatto un appello anche alle istituzioni per velocizzare le pratiche relative alla ricostruzione. Ecco pensiamo a questa diocesi, quante chiese ancora si devono ricostruire e soprattutto quanto è importante che anche da questo punto di vista la Pasqua segni per un tessuto economico in difficoltà una rinascita, una risurrezione. Ho invitato le istituzioni a essere più veloci nell'aspetto burocratico perché lì siamo appantanati. Si annunciano i fondi ma poi praticamente non si riesce a concretizzare i vari progetti. E quindi il mio invito all'istituzione è proprio questo, di snellire tutto l'apparato burocratico. Abbiamo circa 50 chiese ancora chiuse. Certo la prima necessità sono le case delle famiglie, certamente anche i luoghi comuni e le varie realtà pubbliche sono importanti. Ma anche le nostre chiese che sono l'identità di un territorio dove si incontra la comunità cristiana. E quindi ancora una volta rivolgo un invito a cercare di fare del tutto affinché questi progetti possano essere appaltati, i fondi possono essere disponibili. I giovani hanno percorso il cammino della via Crucis a Bussi, sul Tirino che è un po' l'emblema, l'icona anche del disastro ambientale che poi è rimasto impunito alla luce dell'ultima sentenza della Cassazione anche se sono stati chiesti danni e la bonifica. Allora quanto è importante che il rispetto per la natura e per l'ambiente cominci proprio eccellenza dalle giovani generazioni? Sì, questa è certamente una realtà molto molto importante e i giovani sono molto molto sensibili. Abbiamo ascoltato quella ragazza, se non sbaglio svedese, che ha dato questo impulso e tanti ragazzi, adolescenti anche, l'hanno seguita per sostenere l'impegno per la propria terra. E quindi ecco siamo stati a Bussi che attualmente mi dicono il fiume più pulito d'Europa, anche se c'è stata questa situazione ecco dell'inquinamento, ma oggi c'è tutto un risanamento in atto. Ecco, aprile 2019 siamo a un anno e anche qualcosa in più dal suo insediamento, dalla presa di possesso della chiesa diocesana di Sulmona Balba. Ma sappiamo che le feste fanno sentire, vuoi o non vuoi, la nostalgia di casa. Lei la sente o si sente a casa? No, devo dire che poiché sono tanto impegnato nelle nostre realtà diocesane e parrocchiali, non ho nemmeno il tempo, già lo dicevo un'altra volta, di pensare ad avere nostalgia. Tornerò per la Pasquetta, tornerò dai miei, ecco perché posso assaggiare anche i profumi, ecco i sapori della terra amalfitana. Torno per stare una giornata con i miei, però non avverto questa nostalgia. Lei sicuramente avrà avuto modo anche di completare in questo primo anno il giro delle parrocchie di questa vasta diocese di Sulmona Balba. Qual è la linea pastorale che ha dato anche i parroci per una chiesa sempre più vicina alla gente? Diciamo che finito il tempo della gente che va in chiesa, ora bisogna fare il passaggio completo. Quali linee? E con le linee le stiamo scoprendo insieme. A giugno vorrei fare, ecco abbiamo messo in programma dopo un ultimo consiglio presbiterale, una convocazione diocesana dove ci fermeremo per riflettere e per comprendere quali linee pastorali vogliamo seguire. Certamente sentiamo che due cose sono molto importanti. Riprendere la formazione in tutti gli ambiti, la formazione dei laici nelle varie realtà diocesane, è una richiesta che ci viene pressante dalle varie realtà, dai catechisti, dalla Caritas, dalle varie realtà nostri diocesane. E poi avere un'attenzione particolare all'ambito degli adolescenti. Ecco in questi due punti ormai sono chiari che vogliamo operare in questo campo, ma saranno ancora più chiari a giugno dopo questa convocazione. Veniamo alla settimana santa. Lei sa che qui a Sulmona è intrisa di storia e di tradizione. Ha avuto modo anche quest'anno di incontrare le due confraternite, perché c'era questa voglia un po' anche di un ritorno alle origini dei singoli dì. Certamente è un patrimonio molto bello e importante. E le confraternite hanno questo dono di poter trasmettere queste tradizioni alle nuove generazioni, alla città, continuare a mantenerle. È importante anche scoprire il senso di queste tradizioni, dargli valore. Non si tratta di tornare ad un antico, ma a dare nuovo significato a quello che facciamo, ai riti che viviamo. Quello che più, ecco il messaggio che vorrei lanciare alle confraternite, ai nostri cittadini, di non vivere di antagonismo, cioè non bisogna mettersi gli uni contro gli altri, non contrapporsi, ma unirsi insieme per realizzare qualcosa di bello per questa città e per trasmettere i valori che queste manifestazioni vogliono donarci. Sappiamo un conto, la processione, un conto a volte anche la coreografia, altro è il senso. Quindi da qui la domanda come vivere la settimana santa e la Pasqua. Ecco c'è una frase che mi porto nel cuore di San Giovanni in questo tempo, che dice siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Ecco in questa frase mi sembra che possiamo cogliere il senso di questa Pasqua, questo passaggio dalla morte alla vita Gesù l'ha fatto, ecco dando tutto se stesso sulla croce. Per quale motivo l'ha fatto? Per noi, per i fratelli. Ha vissuto la croce, non è sceso dalla croce, ma c'è rimasto per affrontare il dolore e la sofferenza, per amore nostro e poi è risorto. Anche noi possiamo vivere, ecco, la stessa esperienza, se a condizione che lo facciamo per amore dei fratelli. Proprio in questo luogo della solidarietà, quale è il caso Zaccheo. Ecco, per amore dei nostri fratelli, se portiamo nel cuore questa santa inquietudine di essere, ecco, preoccupati del nostro fratello che ha bisogno del mio aiuto, di una nostra sorella che semmai vive nell'indigenza, nella povertà. Se lo amiamo passeremo certamente dalla morte alla vita e sarà Pasqua perché avremo fatto questo passaggio. Ecco, nell'amare i fratelli, ecco, il Signore ci fa far Pasqua, ci fa vivere nella gioia. Allora, eccellenza, prima di chiudere sono io a farle una supplica, chiamiamola così, perché dall'altra parte dello schermo probabilmente c'è chi non riesce a uscire dal venerdì santo, pensiamo a chi vive l'ennesima Pasqua nella malattia, nel dolore, nella sofferenza. Quindi, non venendo meno alla nostra anche funzione sociale, le chiedo una benedizione per tutti coloro che ci seguono in questo momento, soprattutto per i sofferenti. No, certamente, il mio cuore è con voi, ecco, vi sostengo, vi sono vicino, soprattutto gli ammalati o coloro che non possono uscire di casa o che vivono in situazioni particolari, e anche tutti coloro che assistono le famiglie e i nostri ammalati, pensano anche alle nostre case per gli anziani. A tutti voi rivolgo il mio auguro di buona Santa Pasqua e vi dono la benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, eccellenza, grazie a lei, grazie alla Caritas Diocesana che ci ha ospitato in questo emporio della solidarietà nella Casa Zaccheo, davvero il segno più tangibile della carità cristiana, e auguri anche a lei eccellenza di buona notte. Grazie a voi, ancora un saluto a tutti. Grazie anche al nostro pubblico che invito a restare sintonizzato su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.